500.000 auto elettriche all'anno. Valgono il disboscamento di 92 ettari di foresta in Germania? Secondo Tesla, l'azienda di Elon Musk, il cui core business si definisce sostenibile, sì. Non c'è contraddizione tra l'abbattimento degli alberi di Gruneide, nello stato orientale del Brandeburgo, e la produzione di macchine a basso impatto ambientale. Una posizione confermata da un tribunale di Berlino, che in secondo grado ha respinto le istanze urgenti di diversi gruppi ambientalisti che per protesta hanno occupato il cantiere e presidiato gli alberi sino allo sgombero della polizia. La Gigafactory si farà dunque, nonostante le preoccupazioni sull'impatto che potrebbe avere sugli habitat e sulle risorse idriche della zona. In una serie di tweet, Musk ha difeso l'operazione, sostenendo che il sito non sorge al posto di una foresta naturale, era stata piantata per una fabbrica di cartone e che solo una piccola parte sarà utilizzata per fare spazio allo stabilimento. L'apertura della fabbrica è prevista per il mese di luglio del 2021. La Gigafactory di Berlino sarà la quarta di Tesla nel mondo, dopo quelle di Shanghai in Cina e gli impianti negli Stati Uniti, in Nevada e a Buffalo.